Sia da guardare con attenzione questa la notizia per cui secondo il governo non è sufficiente il Green Pass, è una novità importante che serve anche il tampone per essere sicuri rispetto a chi arriva dall'estero, quindi vuol dire che Draghi rispetto alla conferenza stampa che fece il 22 luglio del 2021 quando disse che con il Green Pass avevamo la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose e noi si disse che era una falsità e fummo tacciati di essere no-bugs, pericolosi, complottisti, terrapiattisti, avevamo ragione.